Allora aspetto che provo anch'io a contare con questo vocione Ah aspetta Una Maria Biondi Oh Maria Biondi con i Poo perché questo gruppo fantastico ha quasi No ha più di 40 anni di storia mi pare Oh abbiamo toccato il superato i 50 Eh quindi allora Anche più di me guarda Aiuto Ti è piaciuta? Eh sì Mi sono zappato sul punto solo Poo scusatemi per i pochi 40 anni che vi abbiamo dato di carriera Beh gli hai tolti 20 Eh beh insomma dai Perché loro sembrano sempre giovani anche quando parlano quando si presentano Quando fanno tutto La rughetta ce l'ha Va bene va bene E allora noi abbiamo avuto questa possibilità I Poo ci pensano domani Loro hanno fatto tanta musica ma amici senza figli e digitali C'è qualcuno che pensa a fare musica oggi Oh ritorniamo con il colpo di coda E allora abbiamo la possibilità Quest'oggi abbiamo deciso di ritornare con la musica E la musica cantautorale E lo facciamo con un artista nostro Locale foggiano Ladies and gentlemen A voi Alessio Ciao Alessio Buongiorno a tutti Alessio Eh sveglia Su Eh beh Alessio scusami Ciao Scusate Sono Alessio No vabbè Eh sì dai Un po' vivo Eh perché questo No dai È il telefono un po' Alessio con un urletto È il telefono Alessio È il telefono Ok Allora Alessio noi ti abbiamo chiamato perché Eh dicevamo parliamo di musica cantautorale E beh tu le fai di una professione Quello di essere cantautore Beh ci spieghi un po' presentandoti ecco Chi fa la musica in questo senso Come la compone Come la si fa ecco Ok innanzitutto buongiorno a tutti Scusate Sono un po' emozionato Quindi ripeto Ripeto il buongiorno Buongiorno a tutti amici Buongiorno Buongiorno a voi Ok Allora raccontaci un po' Di chi fa il cantautore Di che cosa si occupa Allora sì Io penso che La musica cantautorale Sia un modo personale Di esprimersi Di esprimere Se stesso innanzitutto Sì Ovviamente con la musica E con le proprie qualità E penso che sia anche In particolare Un modo di voler condividere La propria personalità I propri pensieri I propri umori In generale penso che sia questo Ok Insomma se io non conoscessi Alessio come non ti conosco Ma volessi conoscere invece La parte più nascosta di te Mi basterebbe ascoltare una tua canzone E saprei quando sei nato Cosa fai Che cosa mangi Con quante donne sei stato Tutto Sì 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 Cioè insomma Ma quello che vogliamo comunicare È che chi fa il canto autore È davvero Sviscera Sviscera Tutto quello Qualcuno può interessare Qualcuno altro no Per uno dice Ma sto Alessio Ma chi è Ascoltala E poi sa tutto Della vita di Alessio Ed è questo Ed è questo Più o meno sì Infatti questo è quello che si pongono Chi fa musica propria Perché l'autoproduce Fa la musica I testi Ne cura Gli arrangiamenti Insomma fa di tutto Beh l'autoproduzione è un'altra cosa Perché non penso che Alessio sia Plurimiliardario Da potersi promuovere da solo in tutto il mondo Purtroppo non ancora Voglio essere ottimista dicendo non ancora Ci piace Senti Alessio ma un cantatore Scriva prima Questa è una domanda che ho rivolto spesso A molti cantatori Scrivi prima Le musiche o le parole Perché chi mi dice una cosa Chi mi dice l'altra Chi mi dice nascono insieme Io penso che poi dipenda Sì dipenda Dallo stato d'animo Allora tu cosa scrivi prima? Sì infatti è molto soggettivo Ecco Per quanto mi riguarda L'ottanta per cento delle volte Mi succede di sentire Prima una musichetta insomma Che mi gira in testa Più o meno succede così Poi da lì Cerchi di scelare un testo Qualcosa che Che possa essere adatta A questa musica qui Senti ma questa musichetta Che ti gira in testa ogni tanto Che poi tu certamente Tipo i campanellini Sai Luce lì Non ti capita molte volte di dire Oh caspiterina Ma questa canzone è di Tizio e Caio No perché a noi capita Svegliarci la mattina Con il ritornello Sì infatti Quindi che ne sai Che sia un ritornello Già scritto o No Io la compongo Poi dopo E' vero Mi accordo che E' vero Solo dopo averla fatta Mi accordo che c'è qualcosa Di singe Ma sì certo Ma sì certo Ma mi ricordatevi Bowie Questa cosa Bowie Questo aspetto Sì No perché è vero Che molte volte Anche di riffo Dei jingle O delle frasi Quando le componi Magari possono Possono sembrare Totalmente nuove Inedite Però alla fine Insomma Riscopre che Quella musichetta E' già sentita Ed è quella L'abilità Di avere il tutto In maniera molto chiara Adesso Una cosa ecco Che noi vogliamo sapere Parlo di noi Ascoltatori Di Radiomaster Nello specifico Ecco Tu che cosa Ti occupi Di quale tipo Di musica cantautorale Sì Io Mi occupo In generale Insomma Della musica Cantautorale Il mio E' uno scopo E' uno scopo Particolare Sì Diciamo che io nasco Come artista Artista cristiano Quindi come artista cristiano Emergente Sì E quindi questo Più o meno Spiega tanto Cioè io cerco di portare Un messaggio Alle persone Che sia quello Della Dell'amore Della Della positività Perché Dio Praticamente Per me E' questo Ed è questo Il Dio Che io porto Alle persone Ok Quindi Nello specifico Quello che possiamo dire Che il tuo pop Il tuo rock Si mostra Per Lo spirito Ed è contenuto Anzi Molto Legato A quello che La cristianità E Dio Giusto Dico bene Esatto Io cerco di fare questo Poi ovviamente Con musica E testi Che siano Orecchiabili E che non Non appesantiscano Quindi si possono ascoltare In maniera generale Una cosa Ecco adesso Io faccio un po' Ecco Si suol dire L'avvocato del diavolo In questo caso Sempre così Di una cosa scontrosa Ma chi fa musica Ecco prevalentemente rock Magari potrebbe dire Eh ma sai Il rock È la cosiddetta musica Del diavolo È nata in questo senso Che cosa ci fa il rock Con l'aspetto cristiano A questa domanda Che è anche un po' provocatoria Tu cosa Come rispondi Beh io rispondo Che Per anni e anni E non solo Riguardo alla musica Non solo riguardo Allo rock Tra virgolette Ma per tante altre cose Si Penso che ci abbiano Sì La testa di Tante falsità Ecco posso dire Solo questo Ho capito Perché Dio Va al di là Di quello Che noi Razionalizziamo Ecco Ho capito Quindi c'è quello Che vuoi farci capire Che alla fine L'importante è Comunicare qualcosa Ognuno lo fa Nel proprio modo Certo Ok Ok E poi l'aspetto Della Diciamo tipico Stereotipato Del rock O del Qualsiasi altro genere Che abbia un riferimento A quello A quell'altro Oggigiorno non vale più Cioè Esiste il rock cristiano Esiste qualsiasi altro aspetto L'importante è Mandare Inviare un messaggio Un sms vocale Se possiamo dire così Con le cose È vero Assolutamente No beh Perché anche perché La cosa importante è questo Te l'ho chiesto Perché noi ora Ascolteremo anche Ed è questa La cosa positiva Della vostra intervista Anche un Un tuo Lo posso dire Alessio Certo Un provino Ecco Ma dovresti dirgli una parola No Che parola Cioè Provino Perché No perché adesso lo svelo Quello che ascolteranno ora I nostri ascoltatori È un provino di Alessio Alla trasmissione Italia Sgot Talent Perché Ecco Non sappiamo ancora Lasciamo tutto Col punto Eteroglativo Ci ha provato Ci proverà Ci sarà riuscito Ci sarà riuscito Non lo so Però noi lo ascoltiamo E il pezzo Se vuoi Alessio Ecco Anche con un tuo messaggio finale Lo puoi lanciare tu Non c'è problema Sì sì D'accordo Vabbè È compreso Tutto nel video Quindi Ok Perfetto Quindi Alessio Un'ultima cosa Un tuo messaggio finale Come consiglio Anche che puoi darci Sì Io Allora Quello che sento di dire È di Non abbandonare Mai i propri I sogni Ma portarli A termine Cioè Mettendosi Un obiettivo Davanti E dire Questo voglio fare E questo Devo riuscire a fare Ok Perfetto Insomma Tu sei proprio Uno di quelli Che chi di speranza vive Di sperato muore C'è crede Certo Ma se quello Nella speranza È l'ultima a morire Eh sì Vabbè Ok Adesso Ciao Alessio Io ti ringrazio Per la possibilità L'intervista Lanciamo il pezzo E per il provino Di Italia Ascoltale Ciao Alessio Ok Grazie a voi Ciao ragazzi Ciao Alessio Coppola Ho 28 anni E vivo a Foggia Sono un cantautore E lavorare facendo musica È sempre stato il mio sogno Ma a causa di problemi economici E divisioni in famiglia Sono cresciuto Cercando una strada Che non era la musica E ho vissuto così Anche di molti sacrifici Fino a quando Dopo aver avviato E chiuso un'attività commerciale In pochissimo tempo Stanco dell'ennesima delusione Ho deciso di fare quello Che avevo messo da parte Per troppo tempo Cioè Dedicarmi alla musica Oggi Scrivo e canto Con lo scopo Di condividere Le mie esperienze Le cose belle Che la vita ci offre Credo in Dio E credo che la fede in Lui Porti qualità nella vita Il brano che ascolterete È intitolato Solo un uomo Ed è stato scritto Arranciato E prodotto da me Buon ascolto Oggi è nato un fiore Dentro a me Con mille pedagli A vederlo Sembra di rinascere Con tutti quei colori Anche se È nato in mezzo Ad un deserto Un deserto Fatto di perché I dubbi fanno ombra Il torpore Per me è che sono il più arido Il più debole Lo perderebbe Lo perderei Ma tu apri le tue braccia Verso me Faccio un passo verso di te E poi ti cerco Ma tu dove sei? Vorrei sentirti accarezzare La mia pelle E darti un bacio Perché sei tutto quello che ho E senza te davvero Non ci sto Anche se non ti vedo Io non ho paure Non mi fermo Vado avanti Tra i miei passi Sento che ti muovi E mi accompagni